Il sindaco di Roccamandolfi, Giacomo Lombardi, sottolinea l'importanza del servizio di teleassistenza attivato dalla regione Molise, un servizio che può essere utile ai cittadini più deboli. Il servizio di teleassistenza è utile soprattutto nel sistema sanitario e di supporto sociale per tutte quelle persone che necessitano di aiuti concreti e vicinanza, essendo inseriti nelle fasce più deboli e più in difficoltà. La regione Molise ha predisposto dei bandi per accedere al servizio. Ce ne parla il sindaco di Roccamandolfi, Giacomo Lombardi, che sollecita la partecipazione per i cittadini residenti nel suo comune. Un servizio rivolto principalmente agli anziani e ai portatori di disabilità, un servizio molto molto importante perché mira ad ascoltare le fasce più fragili e vuole combattere sia la solitudine ed è importante anche come supporto psicologico a tutte quelle persone sole. Quindi la regione ha attivato questo servizio per circa 500 unità. I comuni in questi giorni stanno facendo gli appositi avvisi e noi invitiamo tutta la cittadinanza, in questo caso i roccolani che sono interessati al servizio, a partecipare perché in questo periodo di emergenza Covid non c'è solo un'emergenza sanitaria, un'emergenza economica, ma c'è anche un'emergenza sociale che va assolutamente affrontata. Ci sono circa 500 posti, quindi verranno selezionati e soddisfatti 500 persone. Ovviamente l'augurio che noi sindaci ci auguriamo è che questo servizio possa essere rafforzato e implementato anche per il futuro. Inoltre questo servizio si va anche a fiancare ad altri servizi che già oggi diamo alla nostra comunità, in particolar modo agli anziani e mi riferisco al servizio di assistenza domiciliare che riusciamo a dare ai nostri anziani grazie all'ambito sociale di zona e grazie invece al servizio civile riusciamo anche a fornire un servizio di accompagnamento per le persone sole o non automunite per visite mediche oppure per espletamento di pratiche burocratiche. Quindi cerchiamo di integrare i vari servizi per dare un servizio di qualità per essere un comune virtuoso.